Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi come vedete sarà ancora qui con la condizione di la Cering Cross di Assassin's Creed Syndicate Perché volevo mostrarvi l'artbook che ho visto che è troppo bello e quindi adesso ve lo mostro in tutte le sue pagine in tutta la sua bellezza Ecco qua come vedete mi metto anche la sondotracking sottofondo Perfetto l'immagine di rilievo come vedete c'è pure abbinato che c'è la bandiera qua come coperta Andiamo avanti e così è come inizia l'artbook Scusate se nel precedente video non si vedeva bene però adesso ho messo bene l'immagine come si vede Adesso vi faccio sentire la musica Scusate se nel precedente video non si vedeva bene Scusate se nel precedente video non si vedeva bene Scusate se nel precedente video non si vedeva bene Grazie a tutti 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 Grazie a tutti